Torna questo sabato 29 novembre la colletta alimentare promossa dall'omonimo Banco per il sostentamento di chi ha forti difficoltà economiche e ormai in Italia sono ben 6 milioni le persone che vivono in povertà. La colletta sarà attiva in tutti i supermercati della provincia di Lucca. Il sabato 28 in tutti i supermercati della provincia di Lucca saranno presenti i volontari del Banco alimentare che chiederanno alle persone che vanno a fare la spesa di fare un po' di spesa per le persone che hanno bisogno. I supermercati sono interessati, sono quasi tutti quelli della provincia di Lucca e alle persone che entrano i volontari consegneranno un sacchettino e un volantino dove ci sono elencati i prodotti che gradiremmo avere lasciando naturalmente la massima libertà alle persone di offrire quello che ritengono opportuno. Gli alimenti richiesti sono quelli per l'infanzia e poi il riso, l'olio di oliva, i legumi, i sughi e i pelati, il tonno in scatola e i biscotti. Anche quest'anno c'è un'ulteriore possibilità per aiutare il prossimo tramite un sms al 45504 si possono donare 2 euro e sostenere le spese della giornata della colletta alimentare.